Ecco l'entrata in campo delle due squadre, Virtus Castelfrendano con la classica maglia giallorossa, mentre Chieti con la classica nero-verde. C'è l'ingresso in campo, ci troviamo al Sant'Anna di Chieti e la gara è valevole per la sesta giornata di andata. Girone Chieti. Adesso c'è il saluto al pubblico. Applausi. 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 Ecco si salutano. I nostri untici titolari oggi ha una partita delicata. Ecco fra pochi secondi l'arbitro darà il fisco di inizio, qua c'è la panchina. E' una difesa turista. E' una difesa turista. E' una difesa turista.